Un atleta che ha sempre, anche quando si è allontanato da Napoli, parlato bene di Napoli, del suo rapporto con la città, è un riconoscimento meritato. Sì, un riconoscimento da un grande campione di calcio, ma anche un uomo legatissimo alla nostra città, nel cuore di tutti i tifosi, di chi l'ha conosciuto all'epoca come me, che ero un adolescente, in un ruolo indimenticabile che non c'è più, quello di libero, la sua capacità di stare in campo, la visione di gioco, di fare squadra, ha segnato la storia del calcio internazionale e la storia del calcio della nostra città. È stato anche forse il primo fuoriclasse internazionale che è arrivato a Napoli? Direi di sì, anche in un momento in cui il Napoli non era fortissimo, quindi è spiccato appunto per la sua capacità di far arrivare il Napoli anche in alto, a sfiorare anche il primo posto, quindi insomma è un giocatore soprattutto che aveva la capacità della visione di gioco, faceva alzare il livello della squadra e poi a me piaceva moltissimo quel ruolo di libero, forse anche un riconoscimento a quel ruolo che ha segnato la storia del calcio verso la fine del Novecento. Necrolla arriva nell'80, Coulibaly 2019, quindi però la personalità, l'altezza, l'imponenza, la visione di gioco, il carisma, l'umanità, la capacità di creare un legame non solo col tifoso ma con la città, insomma sì c'è qualcosa di bello, insomma lui olandese quindi che viene da quella che era all'epoca una delle squadre più forti del calcio internazionale dell'Ajax, Coulibaly che dal Senegal sta facendo infiammare il cuore dei napoletani ed è ormai un simbolo talmente evidente della nostra città che come sapete il Consiglio Comunale ha scelto di dargli la cittadinanza onoraria. Maradona arriva nell'84, lui viene acquistato quando Coulibaly va via, quindi effettivamente sì, sarebbero stati una coppia perfetta, un grande carisma, Coulibaly avrebbe fatto molti lanci per Maradona sicuramente.